La partita è iniziata a dire poco bene per noi, siamo andati subito in vantaggio sin dall'inizio, dopo abbiamo prolungato il punteggio fino al 25esimo punto, ci siamo portati a casa il set. Successivamente il secondo set abbiamo subito un po' più in ricezione, parlo di me stesso e soprattutto. Dopo siamo stati poco efficaci sui momenti importanti in contraattacco, insomma è andata così. I successivi set sembra quasi che ci sia mancato quel passo in aggiunta per vincere il set. Sicuramente un ramarico, però dal tuo punto di vista diciamo che in queste playoff challenge riesci sicuramente ad avere più continuità, risci a tirare fuori anche dei numeri importanti, sorprendendo. Dal tuo punto di vista come sta andando questo periodo? Guarda, sto vivendo tra virgolette un sogno e in questo periodo mi stanno dando continuità, fiducia agli allenatori, lo staff e spero di dimostrare perché è l'unica cosa che conta. Poco tempo per lavorare adesso perché il prossimo avversario sarà a Milano, è ancora in trasferta. Che partita ti si prospetta e su cosa pensi che bisognerà lavorare nei prossimi giorni? Sicuramente bisognerà ritornare in palestra e lavorare molto duro, sia su tutte le fasi, diciamo, controattacco, attacco, cambio palla e difesa, che forse oggi ci sono qualche volta mancate. La partita contro Milano lo sappiamo benissimo, siamo andati molte volte contro. Insomma è una squadra molto forte sia a livello di muro e difesa che anche di controattacco. Insomma è una squadra molto forte. Insomma è una squadra molto forte. Grazie a tutti.